Nel dibattito sulla crisi politica italiana torna in campo anche il tema del governo internazionale o del governo di scopo che escluda soltanto le forze nazionaliste. Perché questo tema è fondamentale per l'Italia? Perché è chiaro che il futuro del paese è strettamente legato al suo ancoraggio europeo. Senza l'azione della Banca Centrale Europea noi oggi saremmo disperati perché non avremmo potuto indebitarci come abbiamo fatto massicciamente quest'anno per rispondere alla pandemia. Senza i 209 miliardi del Next Generation EU le nostre speranze di ripresa sarebbero nulle. Ecco quindi che oggi mantenere una posizione nazionalista che alcune forze politiche chiamano sovranista per nascondere il dato reale, che hanno una posizione nazionalista sostanzialmente ottocentesca che nel mondo del ventunesimo secolo non dovrebbe avere alcun senso e infatti non ce l'ha, è un problema fondamentale. E questo è il dramma della crisi italiana che diventa difficile da gestire anche il Presidente della Repubblica perché c'è un timore che uno sbocco verso le urne possa portare una scelta nazionalista che porterebbe il paese in una direzione opposta a quella di una leale collaborazione con l'Unione Europea da cui dipendono le sue speranze per il futuro. Questa è la sfida fondamentale per le forze politiche, soprattutto quelle di centrodestra. Abbandonare una linea nazionalista sovranista che non ha senso nel ventunesimo secolo e per quelle moderate che si dicono europeiste fare di questa trasformazione la precondizione per il mantenimento in alleanza che altrimenti non ha senso. Perché non si può essere europeisti e sovranisti allo stesso tempo. Le forze di centro che oggi rimangono dentro al centrodestra ma che si richiamano al Partito Popolare Europeo sono una contraddizione insanabile e devono trovare il modo di uscirne.